Bella ragazzi, sono sempre Yuri Uke, siamo ancora qui su Argon World 2, dove oggi upperemo la nostra bellissima corazza della magia più innova. Come possiamo vedere c'è il nostro amico Syndicate, che ci gironzo là intorno, ma io non lo riesco a vedere perché c'ho... Cosa del lupo. Ok, chiamaci qui. Intanto ci saluta anche Syndicate perché quest'oggi non può parlare, ma comunque noi vanno alla ciancia e andiamo subito a oduppare la nostra corazza della magia da più 8 a più 9. Facciamo fare il conto alla rovescia a Syndicate. Attenzione. 10 9 8 7 6 5 Dai su, dai, 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 4 3 2 1 E vai! Ok ragazzi. Fallita. Fallita. Riproviamo. Su. Il chiede. Inizia il conto alla rovescia. Vai, riproviamo ragazzi, dai. Non ci diamo per vinta, abbiamo un altro metallo, mi sape. Aspetta, è partito. Aspetta, è partito. 1 Vai! Oddio ragazzi. L'ultima volta. L'ultima volta, vai, l'ultima. Ok, c'è partito. Vai! È fallita tre volte di seguito. Tre volte. Niente ragazzi. Non ne ho finito. Possiamo usare il papiro, ho finito tutto. Vabbè. Bella ragazzi da Ryuka, da Syndicate e dal triplo fallimento della nostra magia è tutto. Ciao bella. Al prossimo video. Ciao. Ciao.